Il nostro voto sarà quello di astensione in merito a questo progetto di legge e favorevole invece all'ordine del giorno. La realtà è buona parte dei concetti che noi avevamo espresso in emendamenti. Questi concetti secondo noi andavano appunto declinati all'interno della legge, del motivo per cui ci asterremo al progetto di legge. Non perché non apprezziamo il lavoro di condivisione e di dialogo svolto, lo ringraziamo di nuovo per anche aver accolto alcuni degli emendamenti da noi proposti, però secondo noi andava fatto un passo in più, andava dimostrato un po' più di coraggio e diciamo che in questo caso la maggioranza e purtroppo, devo dire, in questa occasione anche una parte dell'opposizione ha attuato un principio di precauzione un po' strano, non tanto precauzione a tutela dei cittadini ma precauzione a tutela delle applicazioni che poi la Giunta vorrà fare di questa legge. È il motivo per cui noi riteniamo di doverci astenere perché era importante secondo noi inserire, non come ordine del giorno che elenca delle intenzioni che ci auguriamo e auspichiamo, uso parole già dette oggi in aula, che la Giunta poi voglia attuare, ma inserendole come articoli all'interno avremmo veramente dato un indirizzo netto alla Giunta per poter ampliare la tutela dei consumatori e dei nostri cittadini. Grazie.